Il criminale Lello Valsano compirà un'azione del tutto inaspettata. Lello Valsano spiazzerà tutti nel corso della puntata di Un posto al sole di mercoledì 22 febbraio 2023. Il pericoloso criminale è sotto processo per il terribile omicidio di Susanna Picardi e per il ferimento di Viola Bruni, e la situazione sembra sempre più protendere a suo vantaggio. L'avvocato di Valsano, in particolare, ha pianificato per il suo assistito una strategia diabolica volta a dimostrare che l'uomo abbia agito senza premeditazione in quanto incapace di intendere e volere. Illegale. Proprio per dimostrare l'infermità mentale di Valsano ed ottenere un forte sconto di pena per lui, ha messo sotto torchio Viola e l'ha messa in difficoltà. La professoressa, dopo la sua deposizione, si è sentita fortemente in colpa in quanto teme di aver favorito il criminale. Un posto al sole. Nico e Viola saranno preoccupati per il processo nella puntata del 22 febbraio 2023. Nico e Viola saranno molto inquieti e preoccupati a causa del processo contro Valsano. Il giovane avvocato, in particolare, dopo essersi costituito parte civile, avrà paura che l'assassino di Susanna la faccia franca e che la sua amatissima moglie non abbia giustizia. Dal canto suo, stando alle anticipazioni di un posto al sole di mercoledì 22 febbraio 2023, anche la Bruni sarà nervosa e tesa per il processo. La donna continuerà a ripensare alla sua deposizione, e verrà assalita da un grande senso di ingiustizia in quanto avrà molta paura di aver agevolato Valsano e di aver fornito un importante assist all'avvocato del criminale. Proprio la testimonianza di Viola, infatti, potrebbe confermare che l'uomo abbia sparato a lei e a Susanna in preda ad un raptus e non per un'azione premeditata. Un posto al sole. Episodio di Oggi 22.02. Roberto dimostrerà a Marina il suo amore. Mentre Nico e Viola saranno in apprensione per il processo contro Lello Valsano, quest'ultimo arriverà a compiere un gesto clamoroso che potrebbe provocare delle conseguenze imprevedibili. Infine, Marina sarà sempre più amareggiata a causa del ritorno a Napoli di Lara in compagnia del neonato che sta spacciando per il figlio di Ferri. La Martinelli ha già provato a manipolare Roberto dicendogli di aver deciso di trasferirsi a Torino con il bambino e lui è andato in crisi temendo che la donna non gli faccia più vedere suo figlio. Nel frattempo, l'imprenditore offrirà a Marina una bellissima conferma del suo amore. Ma la Giordano non sembrerà affatto serena a causa della presenza di Lara nella loro vita. Vi ricordiamo che un posto al sole andrà in onda su Rai 3 alle ore 20,50.